mannaggia ragazzi mannaggia ci mancava poco un pareggio che diciamo che ci può stare per quello che abbiamo visto in campo ah intanto ditemi se vi piace questa nuova postazione quindi quest'oggi ragazzi non c'è più il caicedo di turno che ci salva la partita ecco non c'è più il caicedo come l'anno scorso non c'è più caicedo che ci salva e al 95esimo minuto segna e porta a casa i tre punti fa portare a casa i tre punti quindi senza di lui ragazzi succede questo abbiamo pareggiato contro il Cagliari Cagliari che aveva appena cambiato allenatore Mazzarri quindi magari poteva essere una partita difficile per quello non a livello tecnico tattico perché ovviamente l'allenatore appena arrivato ci vuole del tempo perché i calciatori si abituino però a livello emotivo insomma è ovvio che appena arriva un allenatore i giocatori danno il massimo danno il meglio per fare più possibile però noi diciamo che un passo in avanti abbiamo visto rispetto alle ultime due partite perché se non altro anche abbiamo visto un po' di gioco e questo è l'importante intanto non c'era Sarri in panchina come ben sapete però diciamo che non voglio parlare dei risultati cosa fare perché tanto noi questo è 2 a 2 un pareggio e abbiamo siamo passati in vantaggio al 45esimo minuto con Immobile e là molto bravo Immobile anche di testa sull'ottimo assist di Sergei Milinkovic Savic poi appena entrati nel secondo tempo come siamo entrati ragazzi veramente male perché poi abbiamo subito subito gol una difesa non brillante ecco a mio parere in cui ha segnato con un colpo di testa se non erro appunto Joao Pedro poi in gol del 2 a 1 mamma mia la Luis Felipe si perde Joao Pedro Joao Pedro perché Eita Baldè che segna e non esulta perché era ex Lazio quindi intanto parlato di questo adesso possiamo dire un po' di gioco perché abbiamo visto una Lazio che creava di più questo è vero però possiamo sempre ovviamente migliorare ecco abbiamo creato tanto però bisogna essere più decisivi ragazzi perché un pareggio io adesso non sono arrabbiato più di tanto perché alla fine la prestazione l'abbiamo fatta ci siamo mangiati tanti gol però ci serve ancora qualcosa ci manca qualcosa però diciamo che siamo in una buona strada anche se il Cagliari non è questa grande squadra ma ripeto era difficile questa partita poi è anche vero che siamo comunque ancora all'inizio bisogna vedere il gioco di Starry ecco bisogna aspettare del tempo già la prossima partita contro il Torino giovedì sarà veramente tosta perché il Torino gioca bene il Torino di Juric quindi poi vedremo come sarà e quindi ripeto la difesa non ci siamo non sono eccellenti poi bene Milinkovic anche Luis Alberto si è un po' ripreso immobile immobile visto bene quest'oggi era partecipe delle azioni eccetera eccetera poi insomma oggi nel complesso non è che abbiamo deluso tanto ecco un po' la difesa che andava sicuramente bisognava migliorare poi una cosa che ho visto bisogna migliorare anche perché la difesa non è stata perfetta se non rimedi non avremmo subito due gol però quello che è un miglioramento rispetto alle altre partite è che quando noi attacchiamo tanto la mentalità è più offensiva come vedete va bene se noi non abbiamo difficoltà a segnare possiamo anche concentrare un po' di più questo è ovvio no? e dopo ecco sulle fasce ad esempio il miglioramento c'è stato perché quando noi attacchiamo con gli esterni poi c'è qualcuno in più che si inserisce cosa che invece contro il Danata Sarai ad esempio nessuno si inseriva ed è un danno ragazzi perché se nessuno si inserisce è inutile che te crossi perché se non c'è nessuno là che colpisce di testa invece quest'oggi ho visto già anche degli inserimenti di Milinkovic dei centrocampisti sarà forse perché contro il Danata Sarai non c'erano titolari ma comunque la mentalità di Sarri è quella quindi se si gioca così o tutti non hanno ben chiaro come vuole giocare Sarri come può anche essere che sia soprattutto perché quelli che giocano meno hanno più bisogno di più tempo per adattarsi insomma tra di loro e anche ai scami di Sarri anche se gli allenamenti li fanno con tutti e quindi ecco per questo Pedro fenomenale a mio parere tecnicamente poi però ha sempre quelle incertezze un po' tattiche a mio parere e poi che dire Lanzali bene anche Marosic una cosa Romero Romero a me piacerebbe vederlo più spesso perché a mio parere è un grande calciatore quindi ecco speriamo perché di vederlo perché secondo me può far veramente bene ecco ragazzi e che vi devo dire io purtroppo un altro pareggio quindi prenderemo un altro anche questo punto pian piano speriamo di fare sempre più vittorie consecutive e dobbiamo continuare a guardare avanti ecco diciamo che questa partita non mi ha dispiaciuto più di tanto però potevamo far di più ragazzi perché abbiamo creato abbastanza e dovevamo essere più concreti anche mi dispiace per la traversa che abbiamo preso che ha preso scusatemi appunto immobile perché ci avrebbe regalato la vittoria ma vedete che qua ci mancava Caicedo in gol la zona Caicedo gol al 95esimo e vabbè dai peccato ci resterà sempre in ricordo Caicedo comunque a questo punto non abbiamo nessun sostituto di immobile tipo Caicedo perché chi Murici capite bene che non è fattibile ma comunque detto questo io vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto se volete iscrivetevi se volete attivate la campanellina solite cose in altre schede video precedenti sotto in descrizione il link per seguirmi su Instagram e degli altri miei due canali su Instagram perché ho pubblicato anche un nuovo post comunque arrivederci ciao qui Lotti e sempre forza Lazio grazie a tutti